Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 8 anni, episodio micoglietto impreparato, tipo il 138 mi pare Venerdì 21 febbraio, ore 8.42 e stasera si vola a Rimini per assistere nel weekend a marketing a Rock Merenda Quindi sono contentissimo, forse ho lasciato il biglietto a casa, attenzione, no ce l'ho, ce l'ho bene Quindi ho evitato di dover tornare a casa in diretta, sarebbe stato fastidioso Allora, venerdì, quindi ultimo giorno della settimana ancora siamo arrivati, un'altra settimana è volata Questa devo dire è stata molto produttiva perché ho fatto diversi articoli Ma soprattutto ho capito l'importanza di attirare persone tramite le pubblicità Perché senza di quelle tutto funziona però con una lentezza esasperante Adesso stiamo parlando di centinaia di persone che arrivano quotidianamente tramite le pubblicità Forse anche qualcosa in più E di conseguenza tra l'altro negli ultimi due giorni i guadagni con Google Ads hanno superato sempre i 50 centesimi Quindi questo è molto bene, vuol dire che una cosa tra l'altro inaspettata Perché quando vedo le pubblicità su dei siti vari dico vabbè col cazzo che clicco Poi in realtà non rendendome ne conto clicco perché la pubblicità mi interessa, mi attrae eccetera Però di mio direi non ci clicco mai, sarei stupido cliccarci Di conseguenza quando facevo queste pubblicità dicevo vabbè ma chi vuole che clicchi Cioè nel senso le persone sono intelligenti, ormai non cliccano più sulle pubblicità In realtà sono intelligenti però anche io ci clicco quindi siamo tutti intelligenti Però se qualcuno ti interessa ci clicchi indipendentemente da che sia una pubblicità o no Quindi effettivamente stiamo andando sulla media di 3 clic al giorno E quindi bene così dai Bene allora adesso andiamo a iniziare con l'argomento odierno Oggi vorrei parlare di un argomento che ho già trattato in maniera molto molto generica Solo accennato qualche episodio fa, non mi ricordo quanti ma di sicuro quantomeno l'ho introdotto Ovvero il fatto di avere solo una fonte di informazione Avevo un collega, probabilmente ve l'ho già citato Che annualmente cambiava tutte le sue fonti di informazione Quindi lui ascoltava e seguiva delle persone su Twitter Perché all'epoca andava molto di modo a Twitter E dopo un anno, boh, via tutto E riprendeva persone diverse nei stessi settori In modo da avere continuamente dei punti di vista differenti Questo lo faceva anche sui siti web Prendeva le notizie da un sito e dopo un anno lo cambiava eccetera eccetera Quindi riusciva sempre a avere diverse visioni E a farsi la sua idea in maniera più precisa Questo per introdurre il fatto che Ho visto una pubblicità su Facebook Qualche... ormai le cose che appaiono su Facebook Sono 99% pubblicità Quindi debbo dire che sta diventando più che altro Una piattaforma pubblicitaria Dove la gente va perché è abituata a andare E scorre, scorre Se trova qualcosa di utile Boh, se no ci perdesti 10 minuti, quarto d'ora E poi chiude e basta Quindi tornando a noi Quindi appunto La gente ormai non pubblica più le foto Delle vacanze 150 foto eccetera eccetera Però comunque È uno strumento Potentissimo per le pubblicità Soprattutto perché targettize in maniera Veramente precisa Quindi tu puoi avere la tua idea E lì ti trova il target perfetto Quindi veramente da prendere in considerazione Se avete necessità di questo tipo di strumento Tornando a noi Questa pubblicità di un portale Dove le persone Tipo il sottoscritto Possono iscriversi E in terreno ci sono una valanga di video Una valanga di audio Una valanga di ebook Come al solito Insomma La frittata è sempre quella E in più puoi connetterti con altri marketer Altre persone che fanno business Eccetera eccetera Per scambiarvi delle idee E quindi bla 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 Un portale così Non esiste in Italia Quindi è una gran figata Eccetera eccetera Tutto bene Fintanto che non inizi a pensare Almeno a me è venuta subito questa idea Di dire Cavoli però Io entro lì È come entrare in una specie di setta Cioè quello che dice quella setta È quello che Alla lunga mi verrà da pensare Perché se io Passo del tempo con una persona Tanto tempo con una persona Alla fine Bene o male Arriviamo sempre a Partiamo Ci confrontiamo Passano gli anni Ci confrontiamo sempre meno Perché ci siamo smussati un po' I lati del carattere diversi Scendiamo a compromessi Eccetera eccetera Quindi All'inizio è super costruttivo Alla lunga Può diventare abbastanza Abbastanza ripetitiva la cosa A meno che uno dei due Chiaramente Non trovi appunto Altre fonti di informazioni Fuori da questo rapporto In modo da poter portare Diverse visioni all'interno Di questo confronto E portare avanti il dialogo Insomma Con altre visioni Avere un portale del genere Mi ha subito fatto venire In mente Cavoli ma se io entro là Guardo solo quei video Parlo solo con le persone Che sono là dentro Alla lunga Cosa Cosa mi viene a me Cioè io Sfrutto materiale di persone Che ce l'hanno già fatta Fatta apposta Per essere venduto E fruito Nel miglior modo possibile Quindi il mio sbattimento È pari allo zero Pago solo il costo del corso E il mio sbattimento È pari a zero E voi direte Vabbè ma scusa Meglio di così Cosa vuoi che ci sia Cioè Hai un gruppo E ti confronti All'interno di quel gruppo E basta Sì e no Perché A parte che se trovi Delle argomentazioni Trattate in maniera Molto semplice E facilmente diseribile Probabilmente Sono state Filtrate Riadattate Per essere semplici Quindi Il fatto che siano semplici È figo Però Quello che ti portano Alla fine Magari è un risultato Abbastanza ridotto Della portata Che potevano avere Se tu le avessi Lette O ascoltate In maniera Non filtrata È un po' come Una spremuta D'arancia Diciamo Se io Ho voglia di Spremuta D'arancia Cosa faccio Vado in un bar Chiedo una spremuta D'arancia Me la bevo Vado via Se uno mi chiede Com'era la spremuta Buona Nel senso Arancia Se invece Passo davanti A un arancio Ok Penso si Si dica così E dico Cavoli Mi faccio una spremuta Con quell'arancia Vado sotto Guardo Tiro giù Una La taglio La tocco La buccia Vedo dentro Il colore La spremo L'assaggio Non mi piace Ne prendo un'altra Eccetera Eccetera Al fine mi faccio La spremuta Che mi fa impazzire Buonissima So anche come fare Perché ho capito Che l'arancia Devono essere Di un certo colore Di un certo calibro Eccetera Eccetera Se uno mi chiede Com'era la spremuta Io non gli dico più Ma la spremuta Dico Guarda Era buonissima Perché se tu Prendi questo tipo di arance La fai così Poi il colore Poi cambiarlo con la Eccetera Eccetera Porti molto più Valore E molto più Molti più dati Al dialogo Che se ti prendi Una cosa già filtrata Se la fai da te Ovviamente è più Dispettioso Più lungo Più Più faticoso Però alla fine Alla lunga Cioè Vinci tu Perché quello che Hai imparato Non te lo scordi più Mentre se tu vai in un bar Hai imparato solo che La spremuta Costa 3 euro Quindi non sto Gran che E questo secondo me Devo essere onesto Sono molto fiero Di questo esempio Venuto fuori Così Ci pensavo da un po' Era sempre ingarbugliato Detto così Ha senso Spero si sia capito Se non si è capito Ditemelo Che provo A spiegarlo in maniera Più semplice Anche se abbiamo capito Che le cose spiegate In maniera semplice Sono bene E anche no A parte gli scherzi Questo è quello Che penso Su questo tipo Di portale E per quello Che è riscritto Anche al portale Il circolo Degli imprenditori Di Frank Però dopo 5-6 mesi Ho disdetto Perché Già alla fine Veramente le cose Che dicono le persone Sono sempre quelle E allora A questo punto Se sono sempre quelle Preferisco Sentirle dire Da persone diverse Che hanno Esperienze diverse Che per quanto Quelle sono Riescono ad aggiungere L'ingrediente segreto Che le rende Differenti da tutte Quindi Questa è la mia visione Sui portali Ed è per quello Che non Non c'entrerò Però se voi siete In un gruppo Che Che vi piace un sacco Che vi dà Ogni giorno Spunti interessanti Ditemelo Perché magari Può essere Potrei andare a vedere E magari capisco Che effettivamente È gestito in maniera diversa Da come mi immagino Siano Siano gestiti i gruppi Però Onestamente Se Un gruppo A pagamento È fatto per guadagnare C'è poco da fare Quindi Gli argomenti Che ci butto dentro Non possono essere Argomenti Difficili Scritti male Che devi stare La ore a capirli No Devono essere proprio La base Anzi Strutturati In modo che Capisci Il giusto Cioè quanto poco Serve per renderti Interessato Ad approfondire E quando vuoi approfondire Ti vendono il corso Testa a testa Faccia a faccia Quindi questo è Il loro guadagno ulteriore Quindi In realtà Tu pensi di usare Un servizio In realtà Sei Anche se paghi Sei un prodotto Perché il valore Che ti danno C'è È innegabile Però Però Non è Non è Non è Non è Così elevato Come può sembrare Almeno questo è il mio modo Di Di vedere le cose Appunto Essendo stato scritto Al circolo degli imprenditori E altri circoli Altri gruppi Da qui però Mi sono tolto Diciamo Il più interessante Su cui rimango dentro È quello di Clickfunnel Perché ogni tanto Viene fuori Perché appunto Là le persone Che sono dentro Quelle che scrivono Lo fanno Di lavoro Quindi Quello che ti portano È Valore puro Esperienza pura Che può tornarti utile Come no Quindi Ci sto E basta Quindi Quello lo reputo Effettivamente interessante Bene ragazzi Questa è La mia visione Del giorno Se Non concordate Ditemelo Perché possiamo Parlarne Ovviamente Dobbiamo Anzi Parlarne Se Vi è piaciuto Votate il podcast Five stars E Ci sentiamo Non lo so Quando Se riesco a fare Qualche episodio Speciale Durante il weekend Ma ricordo Che due anni fa Quando sono andato È stata Una cosa così intensa Tipo entrare E uscire Entrare sabato mattina E uscire Domenica sera Dire Cioè Sono già passati due giorni Quindi È abbastanza Volante Questi due giorni Però Ci proveremo Ragazzi Buona serata Buona birretta Buona serata Mi prendo avanti In realtà Siamo alle 8.56 Adesso Ci sentiamo Ancora Lunedì Forse Forse nel weekend Vedremo E Buona birra Del venerdì sera Ormai sta tornando Quasi ora della birra Anche se adesso C'è un freddo Fottuto E Ciao ciao Ciao